Il Marocco è sotto shock per l'assassinio delle due ragazze scandinave, Luisa Jespersen e Maren Welland, quattro le persone sotto inchiesta arrestate. Intanto il procuratore generale ha confermato l'autenticità del filmato diffuso via Twitter che li ritrae mentre giurano fedeltà al califato. Sono quattro i sospetti sotto inchiesta dalla procura per individuare le circostanze che hanno portato a quest'atto criminale. Sono in corso le indagini poi per determinare cosa c'è dietro queste uccisioni e per verificare possibili implicazioni terroristiche. Parole abbastanza caute queste del portavoce del governo marocchino, ma il video dove i quattro si dicono anche pronti a rispondere alla chiamata dell'ISIS per commettere attentati sembra togliere ogni dubbio sulla matrice terroristica.